Cari ascoltatori di Radio Puggino NER, ben ritrovati. Continuiamo a parlare del caso della Madonna di Trevignano, Gisella Cardia. Oggi, dopo aver analizzato in un episodio, andatelo a riascoltare se ve lo siete perso, aver fatto un commento e un'analisi approfondita sul nuovo messaggio apocalittico di Gisella Cardia del 3 dicembre 2024 che solo oggi ha pubblicato, condiviso con i suoi seguaci e il pubblico curioso come noi. E poi anche c'è un episodio in cui l'ITA, un altro punto di vista diverso dal mio, quello di una credente, commenta questo messaggio. Ma come vi avevo annunciato, non possiamo non parlare di un caso collegato a questo caso, ossia la denuncia del Vescovo Marco Salvini nei confronti di Luigi Avella che ce n'ha parlato, è stato ospite qui proprio pochi giorni fa e ha parlato di questo e molto altro. Vi invito a riascoltare il suo audio intervento che trovate, anche solo il suo audio intervento, in un episodio proprio qui sotto nella playlist del nostro podcast, se ve lo siete perso. Parliamo di Luigi Avella e dei suoi nuovi post sul suo profilo Facebook Fratello Luigi Maria Gioioso perché ci sono delle novità sul caso, degli aggiornamenti. Allora lo facciamo ripercorrendo insieme gli ultimi post pubblici di Luigi Avella che sta combattendo la sua battaglia e noi di Radio Puginoner lo sosteniamo con tutto il nostro cuore. Allora vediamo insieme cosa ci siamo persi nelle ultime ore. Siamo sulla pagina Facebook di Fratello Luigi Maria Gioioso e Luigi Avella dopo aver condiviso, lo ringraziamo, il nostro video in cui c'è la sua ospitata, in cui parla a noi tutti di Radio Puginoner, il suo audio intervento di cui vi parlavo, se ve lo siete perso, c'è nel nostro podcast, andato a riascoltarlo. Vi dicevo dopo questo post, il giorno dopo pubblica una foto con scritto ognuno ai suoi metodi, l'incidente probatorio, che è appunto quello sulle statuine, il sangue delle statuine che sembra essere sangue umano, dice Luigi Avella non ho partecipato come controparte, ho effettuato le analisi da solo con i miei moderni mezzi a disposizione, non è zuppa ma pan bagnato. Di questo ci informa Luigi Avella che poi dice a volte ci si prende, forse, forse, forse. Le analisi del sangue del genetista professore Emiliano Giardina hanno portato a miti consigli? Non sempre i desideri sono realtà e non sempre le aspettative sono solide certezze. Il messaggio del 3 dicembre ancora viene oscurato. Come disse il poeta nel canto dell'inferno, lasciate ogni speranza, voi che entrate. E come sempre notiamo la sua straordinaria ironia, questo era un giorno fa. Ripeto, invece il messaggio è uscito, lo abbiamo commentato insieme poco fa qui a Radio Puggino NER. E di tutto di più, Zona Bianca. Questa sera partecipo a Zona Bianca nel programma di Giuseppe Brindisi, intervistato dall'ottima giornalista Natascia Farinelli. Dunque, se ve lo siete perso, andate a rivedere l'episodio di Zona Bianca di ieri sera in cui era ospite Luigi Avella e poi lo commenteremo insieme prossimamente. E poi c'è un post che leggeremo ora insieme in cui Luigi Avella parla in modo più esteso e titola Il bilancio del 2024. Allora, ascoltate bene cosa scrive Luigi Avella. Dopo aver analizzato con documenti ufficiali il bilancio del 2023 dell'Associazione Madonna di Trevignano Romano, siamo in attesa del nuovo bilancio del 2024 che si chiuderà tra 20 giorni. Sono state dette tante inesattezze, tra cui quella inverosimile è che il 2023 ha portato molte donazioni, grazie all'esposizione mediatica della coppia dei visionari. Se non dovessimo trovarci davanti ad un bilancio falso, ce lo dirà la Guardia di Finanza. Le risultanze del rendiconto sono catastrofiche. Dai libri contabili ufficialmente trascritti, le entrate ammontano per il 2023 a 27.000 euro, mentre le uscite a 55.000 euro, con un disavanzo negativo di 28.000 euro. Il baccano mediatico non ha portato bene alla falsa veggente. Presumo io, dico con voce sommessa, che dopo il decreto del Vescovo che ha dichiarato nel 2024 le apparizioni prive di fondamento, constate e non supernaturalitate, le entrate si sono ulteriormente ridotte a lumicino, mentre le uscite, grazie al contenzioso e alle strategie legali, sono ulteriormente aumentate. Triste storia contabile di specchiata veridicità, come disse l'osservatore immaginario, conservare la polvere sotto il tappeto per mostrare eleganza di pensiero non porta bene. Due certezze, siamo arrivati a verificare. La moltitudine di seguaci si è ridotta ad una dozzina di adepti nervosi e irritabili. Due, il fiume di donazioni si è rivelato un rigagnolo di pochi spiccioli di euro. Cosa ci riserva il bilancio del 2024? Dobbiamo aspettare i documenti ufficiali. Intanto, il pizzettaro e la cuoca ufficiale degli gnocchi e dei conegli con patate si è offesa ed è rimasta delusa. Usata, ignorata e accantonata. Triste storia di chi veniva rimproverata dal Marchese del Grillo. corsi e ricorsi della storia esaltazione, celebrazione e glorificazione, abbassamento, denigrazione e calci nel sedere. La questione spirituale è stata superata. La questione legale è in attesa e la questione morale imbevuta di vergogna, disprezio, di leggio e tanto svilimento. questo un post molto interessante di Luigi Avella direi. Ma oltre alla denuncia del Vesco nei confronti di Luigi Avella di cui tra poco anche riparleremo ma Luigi Avella condivide un post perché sapete lo abbiamo detto è stato accusato da dei troll naturalmente da falsi profili di accuse gravissime. Lo scrive in questo post Luigi Avella dicendo il movimento Me Too è un movimento femminista contro le molestie sessuali e la violenza sulle donne. Mi ha violentato. Ormai sono famoso per aver violentato molte donne, uomini e bambini e c'è un articolo che condivide di La Repubblica dove c'è scritto titola Madonna di Trevignano il finto Me Too contro l'accusatore di Gisella Cardia mi ha violentato. Ecco allora direi che davvero qualcuno usa degli strumenti poco corretti speriamo che si indaghi davvero su quanto sta accadendo nei confronti di un uomo che sta cercando di portare a galla la verità su questo caso per esempio leggiamo delle frasi di questi falsi messaggi condivisi online dove c'è scritto infastidità cercai di mantenere le distanze ma il signor Avella diventò sempre più insistente quando cercai di evitarlo in un successivo incontro lui mi sussurrò non hai idea di quanto odio Gisella quella donna è un'ipocrita non cede ai miei sentimenti eppure è una santa per tutti voi distruggerò la sua reputazione ho già raccolto le prove per rovinarla un giorno mentre ero sulla collina con lui ha cominciato a toccarmi ero terrorizzata e non sono riuscita a strillare poi mi ha violentato e mi ha minacciato di morte se avessi rivelato la storia insomma è veramente delle cose orrende che leggiamo e l'unico commento che farei è davvero smettetela perché davvero siete ridicoli possibile che non avete altri mezzi per vendicarvi perché sembra quasi una vendetta da parte di qualcuno per queste battaglie questa battaglia contro Gisella Cardia che sta facendo Luigi Avella cerca qualcuno di vendicarsi sembra in modi davvero molto spiccioli dunque Repubblica dice tre troll hanno iniziato a perseguitare Luigi Avella l'ex fedele che ha denunciato la veggente per truffa dunque cari ascoltatori di Radio Pugino Nerd davvero bisogna solo rinnovare la nostra stima e il nostro affetto la nostra vicinanza a Luigi Avella perché qui davvero questo caso della Madonna di Trevignano sembrava qualcosa di più semplice no? una falsa veggente che si è inventata invece sembra avere dei risvolti sempre più inquietanti e allora un post di poche ore fa di Luigi Avella ci dice Davide Murgia svela l'arcano sulla denuncia per difamazione è una denuncia di cui ha parlato Luigi Avella proprio pochi giorni fa qui a Radio Pugino Nerd vediamo allora cosa ci dice ho appreso dal giornalista Davide Murgia il reato di difamazione in modo anonimo sotto falso profilo ho accusato il Vescovo Salvi di aver preso soldi ho sempre parlato in modo chiaro e trasparente sulla superficialità del Vescovo Rossi di aver taciuto il risultato dell'analisi del sangue e di aver concesso la Chiesa dell'Assunta Sacro Cuore Santa Caterina per le false apparizioni ho sempre sostenuto che questi atteggiamenti hanno ingannato me ed altre persone ad andare sulla collina ho pubblicato nei miei libri che il Vescovo Rossi aveva dichiarato nel 2018 ad un sacerdote polacco di non credere assolutamente alle apparizioni conservo l'articolo e l'intervista dunque sapeva quando è arrivato il successore ho inneggiato alla decisione di costituire una commissione sulla veridicità delle apparizioni ho sempre palesemente accolto il decreto con soddisfazione fatto notare che mancava una sanzione e di questo ne ha parlato anche qui a Radio Puginonair Luigi Avella e secondo me è molto importante davvero mancava una sanzione in questo decreto continua Luigi Avella scrivendo tra parentesi non sono stato l'unico a farlo notare e ho annotato la dichiarazione del cardinale Fernandez di aver dato un aiutino al vescovo nel pubblicare il decreto sottolineando che ora si può dire ho annunciato pubblicamente che ho scritto un libro il terzo dove alla luce della truffa non escludevo interessi di molte entità interessate al business come potevo accusare di soldi il vescovo Salvi che ha subito costituito la commissione forse il nuovo vescovo aveva timore che mi sarei avventato sul suo predecessore dopo le risultanze della commissione l'ipocrisia apprezzo ed io affido alla santa madre chiesa quella di Cristo dice Avella quella di Cristo Signore dunque chi avrebbe trattato Giovamento Salvi o Rossi perfino nell'ultima intervista ho manifestato il dubbio che ci fossero forse occulte per una Meggiugoribis forse qualcuno in alto loco aveva la coda di paglia ora sappiamo il vero motivo della denuncia per diffamazione tra parentesi occulta pretestuosa ingannevole esiste una coscienza che riguarda la verità il vescovo Rossi ha occultato la verità sulle apparizioni nobles o oblig non so se si legga così io non ho denunciato Rossi cioè vuole dire io però d'altra parte non ho denunciato Rossi invece per il fatto che lui mi ha fatto credere maggiormente a Gisella Cardia perché sembrava quasi che la ufficializzasse addirittura Benediva con la statuina che ora hanno analizzato gli investigatori in chiesa e scrive conclude Luigi Avella dicendo salve ha denunciato me la classe non è acqua affido a Maria ausiliatrice questa mia piccolissima sofferenza invidio i vescovi quando faranno le omelie durante l'anno santo sulle beatitudini beati voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia e dunque su questo ci aggiorna Luigi Avella cosa possiamo dire davvero io mi sento dalla parte di Luigi Avella che nonostante la sua battaglia per portare a galla la verità sembra davvero essere due volte vittima di questo caso dunque non possiamo che rinnovare la nostra vicinanza a Luigi Avella ma andiamo avanti perché c'è un altro posto molto interessante con le dieci domande che mi sono fatto questa notte insonne e dieci ore fa lo posta Luigi Avella dicendo potranno camminare per luoghi oscuri e tenebrosi ma non potranno e non potrò sfuggire al giudizio di Dio e condivide una serie di foto con scritte delle cose molto interessanti le dieci domande che mi sono posto mi sono fatto questa notte insonne e ora le leggiamo insieme e in ognuno di questo in ognuna di questa sua foto che condivide nel post Luigi Avella di questa sua notte insonne c'è una frase che inizia con ora capisco tante cose per esempio il motivo per cui e ora leggiamo insieme questi dieci motivi allora ci dice Luigi Avella ora capisco tante cose per esempio il motivo per cui sia la Diocesi e sia la parrocchia di Trevignano Romano non vollero la statua della Madonna che stava sulla collina ora capisco tante cose per esempio il motivo per cui sia il vescovo che la commissione non vollero mai ascoltare la mia testimonianza attenzione questi sono dei post davvero molto interessanti andiamo al prossimo ora capisco tante cose per esempio il motivo per cui la denuncia è partita dopo la pubblicazione del decreto voluto fortemente dal dicastero della dottrina della fede e ancora ora capisco tante cose per esempio il motivo per cui molti personaggi in commedia hanno mentito e mi ero fidato per poi vederli soccombere e cadere come birilli sull'asfalto ora capisco tante cose per esempio il motivo per cui la denuncia del presule ha aperto le danze alle accuse per stupro violenza molestie abusi e sevizie su donne uomini e ragazzi ora capisco tante cose per esempio il motivo per cui la santa vergine è intervenuta miracolosamente facendomi incontrare chi era presente alle dichiarazioni del vescovo rossi a don carmelo benedetti parroco parroco di trevignano romano e ancora ci dice luigi avella ora capisco tante cose per esempio il motivo per cui ho salvato prudentemente la testimonianza del sacerdote salesiano al quale il vescovo rossi confidò che non credeva assolutamente insieme a padre ubodi alle false apparizioni e permetteva le mariofanie in chiesa ora capisco tante cose per esempio il motivo per cui il dicastero della dottrina della fede spinse la pubblicazione del decreto prima dell'apertura dell'anno santo dopo aver ricevuto la mia pubblicazione ora capisco tante cose per esempio il motivo per cui l'ordine dato fu repentorio bisogna distruggere avella con qualunque mezzo ora capisco tante cose per esempio il motivo per cui alla veggente fu offerto un cammino di purificazione e ad avella botte da orbi senza un richiamo fraterno il nemico numero uno insomma davvero ci stringiamo attorno a luigi avella perché queste sue dichiarazioni forti sono davvero ci fanno capire come lui nonostante abbia provato a fare la sua parte e sicuramente una parte che funziona perché ricordiamoci che siamo che le indagini sono in corso e la veggente è davvero a rischio di essere accusata di truffa aggravata grazie al coraggio di luigi avella nonostante tutti come abbiamo visto i vadano contro e l'ultimo post scritto cinque ore fa da luigi avella ci dice non sarò tra i rifugiati delle catacombe senza volto e senza voce non dovrò andare ramengo per nascondere la mia dignità non sarò ricordato come un delinquente che ha ingannato il prossimo nel mio dna non c'è inganno truffa e falsità ho pubblicato due libri le false apparizioni di treviniano romano e quando il demonio si veste da outlet ne pubblicherò un altro j'accuse per dimostrare la complicità di chi doveva difendere ed ha avvallato il grande disegno di una meggiugori alle porte di roma non mi fermeranno e scrive luigi avella ancora nella foto che ha condiviso al momento del bisogno ti accorgi chi tra i media stampa e televisione si interessa di te o si nasconde perché non servi più alle loro inchieste combatterò da solo come un leone venderò cara la pelle con ogni mezzo e mi farò aiutare la maria ausiliatrice sapendo che se ho mentito meriterò la dannazione eterna allora ricordiamo a Luigi Avella che non è solo Radio Puginon Air lo sostiene in questa battaglia e non mogliamo andiamo avanti sempre alla ricerca della verità grazie per averci ascoltato anche in questo episodio alla prossima puntata di Radio Puginon Air fatemi sapere cosa ne pensate naturalmente come sempre nei commenti sotto l'episodio grazie ancora e buona nottata attut